Massimo Ghini, Natale a 5 Stelle, 5 Stelle l'albergo ma non solo, che premiere sei e che 5 Stelle sono? Beh devo dire che sono un fior fior di premiere, adesso non è che siete sempre così caustici e critici, se uno le cose non se le dice da solo a casa non gliele dice nessuno. Dal punto di vista del film è un geniale e intelligente e simpatico mascalzone, nel senso che poi è quelle figure che qualche volta mi è capitato, io forse c'è un po' il physique du role da questo punto di vista, cioè sono sempre quei personaggi, prendete questa parola col beneficio inventario, sordiani, nel senso sono dei cialtroni in mascazioni, cinici, crudeli, che però con il sorriso riescono a trovare una soluzione. Ci siamo nati, cresciuti e sviluppati con questo tipo di racconto, di narrazione che era nella grande commedia all'italiana, non a caso in questa situazione qui prendiamo spunto, come dicevo, da una commedia di grandissimo successo inglese, scritta da un signore, da un illustre, da un baronetto inglese che ha scritto grandissimi successi. Oltre questa che in originale si intitola Out of World, fuori servizio in tutti i sensi. Il personaggio che mi è stato proposto mi è piaciuto fin dall'inizio perché mi dava, mi ha dato come attore la possibilità di muovermi un po' come un ballerino, nel senso poi questo personaggio ha questa caratteristica di girarsi ogni volta e di presentarsi con una sorta di faccia diversa rispetto a chi ha di fronte e al problema che deve affrontare e trovare in forma intelligente, cinica o cattiva o crudele comunque una soluzione. Non lo ferma niente fino alla fine, se vi ricordate l'ultima inquadratura, arriva e oltrepassa qualunque. Non è politicamente scorretto, è proprio scorretto. Cosa c'è di meglio per un attore che potergli permettere di fare personaggi del genere? Ti sei ispirato a Conte o anche un po' a quello prima, chiamiamolo quello prima, con il suo bunga bunga, le sue donnine? Io non ho nessuna paura di dire se mi ispiro a qualcuno, non è questo, però sono molto onesto nel senso quale tipo di ispirazione puoi avere dopo qualcuno che conosci e non conosci nemmeno da pochi mesi. Questo non è un film, voglio dire, che fa l'imitazione come poteva essere una volta cabarettistica nel pieno rispetto di chi faceva quello, quando si vedevano al bagaglino tutti i politici imitati, trasformati. Quello è un tipo di comicità caustica. Il nostro è una grandissima commedia che è stata scritta nel 1990 e Conte non so che faceva all'epoca, dove stava, ma non c'era nemmeno Renzi, non c'era nessuno di tutti questi. Allora, l'ispirazione è certo, io mi chiamo Franco Rispoli, sono il Presidente del Consiglio, sono un professionista che è stato chiamato a dirigere le sorti di questo paese. Voi ci vedete questi, riflessa questa immagine, ma d'altra parte è quello che sta succedendo nel nostro paese, non è che ci siamo inventati o abbiamo avuto bisogno di trovare, come dire, la formula di imitazione comica. No, non faccio quello, ho i baffi, ho altre cose, non c'è proprio niente che voglia. E poi voi ci leggete quella cosa lì. Certo, il riferimento a certi personaggi, la storia che viviamo l'abbiamo avuta e quello è stato per non fare gli ipocriti. Questo lo dico per nome e per conto degli autori, di chi ha scritto il film, quindi il riferimento a Di Maio, a Renzi, a Salvini, c'è perché vuole, questa commedia vuole questo. Mi preoccupa il fatto che tutti mi stiano domandando questa cosa. Cos'è successo in questo paese dove si andava per strada, si combatteva uomini e donne per forme diverse, no? Di lotta, di rivendicazione, di richieste, di cose. E adesso questa cosa che forse è un film che prende in giro chi sta al governo, ci mette qualche ansia. Ma è questo paese che mi mette ansia a me. Io vengo dall'Inghilterra dove ho visto fuori dai datri, non avete idea quello che stanno rappresentando e quello che dicono, cosa dicono della Brexit. Ho visto delle cose in televisione in Inghilterra che se le facessimo noi ce le abbiamo. E noi ci stiamo preoccupando di una cosa che fa ridere dove questi personaggi fanno ridere perché la storia, perché la politica fa un po' ridere. Ma non so io a dirlo, no?